La conclusione di questa Messa è di ricordare in modo particolare Don Angelo Bernini, che sappiamo l'altra sera ci ha lasciati. La nostra preghiera è per lui con un senso profondo di riconoscenza per il lungo servizio compiuto nella nostra comunità per ben 63 anni, in particolare presso il nostro santuario della Madonna del Castello. Lo figliamo ora al Signore attraverso proprio l'intercessione di Maria, ecco la madre, con lei alla quale lui è sempre stato molto devoto e che lui ha servito con grande fedeltà e dedizione in tutti questi anni presso di noi e appunto presso in particolare il nostro santuario. Siamo certi che ora il Signore lo accoglie attraverso appunto le braccia di Maria e lo ricompenserà di tutto quello che lui ha fatto nella nostra comunità, ecco del suo zelo, della sua passione pastorale, dei sacramenti che ha celebrato per noi, della parola che ha spezzato e per quella carità che in modo tante volte, ecco, invisibile e nascosto, lui ha sempre coltivato. Lo affidiamo ora nella preghiera al Signore e insieme per lui diciamo l'eterno riposo. Dona a lui o Signore, splenda a lui la luce perpetua, riposi in pace, amen. L'eterno riposo, dona a lui o Signore, splenda a lui la luce perpetua, riposi in pace, amen. Grazie, ecco a questa possibilità che ci è stata offerta di condividere questo momento di ricordo di Don Angelo e buona domenica a tutti. Così siamo rassicurati che il nostro parroco sta bene. Grazie.